Ciao a tutti, oggi vi racconto la storia di una fotografa, di Vivian Meyer. La storia che conosciamo di Vivian Meyer comincia nel 2005, quando un tale John Maloof sta scrivendo un libro sulla storia di Chicago. Per farlo deve reperire un certo numero di fotografie, di materiale storico, ovviamente per scrivere il libro. Questa ricerca lo porta ad un'asta in cui acquista per 400 dollari il contenuto di un box espropriato ad una donna che non pagava più l'affitto. Acquista una serie di cose, oggetti personali, documenti, cose del genere, e insieme a tutto questo trova una certa quantità di fotografie, una certa quantità abbastanza importante, perché trova circa 100-150.000 negativi, 3.000 stampe e centinaia di negativi ancora nemmeno sviluppati. Lì per lì li analizza, però fondamentalmente non sono utili al suo libro e quindi li mette da parte. A un certo punto però passa del tempo e se li va a guardare. E viene attratto da queste fotografie. Lui non è un fotografo, quindi non sa bene cosa cercare o se effettivamente queste fotografie abbiano una qualità fotografica. Però ne rimane colpito, al punto che nel giro di un anno circa, anche lui si appassiona alla fotografia. Compra una macchina fotografica e inizia a scattare delle foto. E ritorna quindi sempre su quelle foto. Alla fine ne diviene quasi ossessionato da queste fotografie che trova, al punto che incomincia ad indagare sulla storia di questa persona. E scopre che Vivian Meyer era una bambinaia, che scattava fotografie, quindi non per professione. Ora, le sue fotografie sono assolutamente degne di nota. Di certo non era una principiante, anche perché scattava foto con una Rolleyflex, una macchina fotografica che non era proprio economica ai tempi, non lo è ancora adesso. Quindi sicuramente se ha investito quel denaro per quella macchina, vuol dire che ci teneva particolarmente. E effettivamente dalle foto che faceva si capisce che non era una principiante. Era una appassionata, sicuramente una appassionata evoluta, che aveva studiato, che non scattava assolutamente per caso. Ci sono foto anche fatte in studi, quindi con luce artificiale. Insomma, non era una fotografa improvvisata, ma non lo faceva per mestiere. Fece addirittura, durante la sua carriera da bambinaia, prese sei mesi di congetto per girare intorno al mondo, per fare delle fotografie. Insomma, era una persona che aveva veramente una grande passione, amava la fotografia. John Maloof continua ad indagare, raccoglie un certo numero di fotografie e le mette su Flickr. Da lì comincia la notorietà, ci sono stati anche fotografi famosi che hanno parlato di Vivian. Si arriva al punto che la stampa ne prende coscienza e diventa un fenomeno mediatico. Su di lei vengono scritti libri, su di lei sono stati fatti documentari e costantemente ci sono mostre in tutto il mondo che espongono le sue fotografie. Vivian Meyer purtroppo muore a 83 anni, proprio nel periodo in cui la sua notorietà cominciava ad aumentare. John Maloof non riesce effettivamente a parlarci e quindi lei se ne va senza nemmeno sapere della notorietà che ha avuto. Da come è andata la sua storia, forse non l'avrebbe nemmeno gradita tanto. In fondo lei scattava tutte queste fotografie ma le ha tenute in un box chiuse, addirittura non sviluppando centinaia di rullini. Questo chissà, forse a un certo punto la sua voglia di scattare fotografie è prevalsa sulla voglia di vederle addirittura o forse per chissà quali altri motivi. Su di lei appunto i documentari hanno indagato anche su questi misteri, ma diciamo che a noi interessa poco questa cosa. Sicuramente è una fotografa degna di nota, pur non essendo una professionista. Direi che si può dire che era una dilettante, ma di certo non una principiante e di certo sapeva cosa stava facendo. Se vi è piaciuto questo video ovviamente scrivetemelo nei commenti, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per essere aggiornati sui nuovi video. Grazie dell'ascolto. Ciao, alla prossima! Grazie.